Gira attorno a Delia, poi taglia Banks e vada ad appoggiare in qualche modo Adrian Banks, prende l'applauso del pubblico, così come lontano Nick Perkins, alla quinta fa saltare Delia, poi vada ad appoggiare, una giocata da guardia, Mianna, Gracielis, Delia vada ad appoggiare, subisce anche il pallo di Mattia Udom, molto fisica e quindi Fernandez adesso prova il fingerolo proprio con Delia poi in surplus, Fernandez riesce, c'è ancora Zanelli, lo scarico per Redivo, la sua finta prova ad andare fino in fondo, Redivo appoggia a Trapellone, un altro eccellente canestro per il giocatore qui inquadrato. Quest'anno a Brindisi, Sanders va in uno contro uno, va a depositare lasciando sul posto Zanelli che non riceve l'aiuto nemmeno dei compagni, Ciappe difende bene però Cavaliero, lo scarico poi per Udom che va ad appoggiare ed è anche un po' fortunato, ed è costretto al time out, adesso alla fine del secondo quarto Redivo si alza ancora da tre, ancora Redivo, Sanders ancora molto lontano dal canestro, marcato da Perkins, prova ad andare fino in fondo, realizza il trentottesimo punto che porta le squadre negli scogliatoi per la sua nazione di Cristina, rischia il fulmino sull'attacco per il visino, Josh Perkins dalla parte opposta. Sono tanti gli errori, messo in questo frangente, poi Caglio è perfetto, il taglio di Raggiulis, fa di tutto ma la palla è conquistata da Trieste e va dalla parte opposta da Raggiulis a depositare a sbagliare, a schiacciare lui, Sarano, Conate, Zanelli adesso 10 campi di relazione Brindisina, quindi Visconti ha spazio, si alza lui da tre, Visconti risponde. Conate uno contro uno con Carter, ha spazio, il giocatore del Mali, vediamo se riesce ad andare fino alla fine, e riesce, si fa, la pallata, chiama palla Nick Perkins, sale a portare il blocco, vediamo se si chiude il gioco a due, e Perkins si alza da lontanissimo, il tiro da tre per Josh Perkins, ha subito la stoppata, adesso Trieste nuovamente avanti, 9 per più di relazione, con Sanders, perla, con la prima, schiacciandolo, rimbalzo conquistato però da Marcos Delia, nell'angolo Cipro, la rimbalzo, poi Zanelli, quindi Adrian non tira, il pallone per Perkins, tira lui, e non sbaglia, ancora due punti per Nick Perkins, qui ne palla il giocatore argentino, poi va lui a concludere, con il resto, Poccoli! Sbaglia anche il secondo, con la confusione da Ciab, e non c'è il play, vince la Trieste, P토aspro, quando vengono Ogarino, fando chi è venuta, grazie a tutti! Grazie a tutti.